Dove sono? Scusate, ma io devo realizzare. Questa è l'Università del Wisconsin? Salve. Io sono teso e io, fra l'altro, ho un pessimo ricordo dell'Università di New York. È successo che fui sbattuto fuori il primo anno perché copiavo agli iscritti di Metafisica. Sapete, stavo sbirciando nell'anima del compagno accanto a me. Poi ci ridete e quando fui cacciato, mia madre, che è una donna tremendamente emotiva, si chiuse la chiave nel bagno e si avvelenò inghiottendo i pezzi del domino. Naturalmente rifarli fu una seccatura e la cosa mi depressa e facendo la psicoanalisi, risultò che tendevo al suicidio e mi sarei ucciso, ma il mio psicoanalista era freudiano rigido e quelli se ti ammazzi te li ritrovi con la parcella in mano fin dentro all'oculo. Alvis è stato...